Muoversi. Infomobilità in Campania. Sull'autostrada A2 del Mediterraneo, sino alle ore 6 di sabato 21 luglio, per lavori di manutenzione, troverete attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli battipaglia e contursi in tutte e due le direzioni. Qui i lavori vengono effettuati in tratti saltuari. Sulla statale 145 Sorrentina vi informo che dalle 22 di questa sera e sino alle ore 6 di domani mattina, troverete nuovamente il senso unico alternato in località Seiano. Sempre su quest'arteria, sino alle ore 16 del 14 agosto, troverete chiuso ancora per lavori di manutenzione lo svincolo di Gragnano in ingresso in direzione Sorrento. Sino alle ore 17 di venerdì 13 luglio, invece, sulla statale 268 del Vesuvio resta chiuso al traffico il tratto compreso tra le uscite Ottaviano Zona Industriale ed Ottaviano Centro in direzione del capoluogo partenopeo. Ancora lavori di manutenzione sulla tangenziale di Salerno. Qui, invece, sino alle ore 18 di sabato 21 luglio, si procede a carreggiata ridotta tra gli svincoli Salerno-Est e zona industriale in tutte e due le direzioni. Infine ci spostiamo a Napoli. Per quanto concerne il trasporto pubblico, vi ricordo che sino al prossimo 31 agosto resta chiusa al pubblico la funicolare di Mergellina. Pertanto, sul percorso Manzoni-Mergellina è attivo un servizio sostitutivo su gomma mediante l'autolinea ANM 621. Date uno sguardo al nostro sito all'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it per tutti i dettagli. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania. Un saluto da Gigi Gallo. Servizio a cura di ACAMIR e Regione Campania Servizio a cura di ACAMIR e Regione Campania Servizio a cura di ACAMIR e Regione Campania Grazie a tutti.